Ben trovati da Nikos di Trebi Meteo, un aggiornamento con le previsioni di lunedì perché attenzione l'anticiclone rimarrà molto a nord tra isole britanniche o pieno oceano e determinerà una nuova zona, una falla depressionaria sul Mediterraneo con piogge attese al nord lungo la dorsale Appenninica, Sicilia, Calabria e attenzione perché la neve farà la sua comparsa a quote molto basse al nord. Nel dettaglio quindi la nuvolosità, una giornata molto variabile, non solo al centro-sud nubi medio-alte più compatte dicevo sul lato tirrenico con occasionali piovaschi sulle zone interne ma attenzione Liguria, Toscana, regioni settentrionali, precipitazioni in giornata nevose in montagna a quote basse su Alpi, Prealpi e in serata anche l'Appennino settentrionale. D'altronde da nord giungerà una massa d'aria più fredda direttamente dall'Islanda, dalla Scandinavia. Ecco la situazione in sintesi quindi cieli chiusi, precipitazioni sparse al settentrione con nevicate in deciso calo dal pomeriggio su Alpi e Prealpi ma anche a Appennino settentrionale. Gran variabilità al centro-sud con qualche schiarita maggiore sul medio-basso adriatico, piovaschi in arrivo per Toscana, dorsale Appenninica e poi anche tra Sicilia e Calabria. Temperature insensibili, marcato calo al nord mentre ancora miti sulle rimanenti zone del centro-sud ma graduale calo termico anche qui da martedì. Tutti i dettagli però scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.